Ciao e benvenuti a tutti da Alberto Carraro di Silverwind Sail Oggi torniamo alle nostre regate con virtual regata inshore e andiamo a partecipare con le imbarcazioni che credo siano i J70 le chiamano Day Boat Racer però al momento non lo sappiamo ancora quindi bando alle ciance e iniziamo subito con la prima regata di giornata andiamo a vedere si è regata a Kiel, vedete la barca è molto simile al J70 anche se non c'è più scritto niente a riguardo bisogna dire che il design non è cambiato proprio tanto però sembra una barchina comunque interessante ragazzi devo darvi una bellissima notizia una bellissima notizia e una bruttissima notizia la bellissima notizia è che mi sono qualificato alle finali di settembre e quindi adesso non c'ho più la pressione di dovermi qualificare posso regattare veramente in pace e divertirmi e possibilmente divertire anche voi la notizia bruttissima è che non l'ho registrata l'ho registrata ma ho registrato solamente la mia faccia e non lo schermo e quindi se volete vi metto un primo piano mio che esulto come fossi un calciatore nel 2006 che va a Berlino per tentare vincere la Coppa ma mi dispiace tantissimo ma non l'ho registrata e quindi mi dispiace di aver sono riuscito ad inallare tre secondi posti e due vittorie consecutivi ho fatto sei regate la prima era di un po' meh però ho fatto sei regate tre secondi posti e due vittorie ho fatto quel mezzo punto in più che mi serviva per qualificarmi sono arrivato a 97esimo su 100 quindi i primi 100 si qualificano però non importa perché alla fine comunque non cambia niente puoi qualificarti primo con tutte le vittorie puoi qualificarti 99esimo ma non c'entra niente e quindi ci siamo qualificati siamo entrati dietro i primi 100 e adesso il nostro obiettivo adesso è allenarci per fare al meglio soprattutto con queste classi qua che sono delle classi che non padroneggio molto bene ovviamente le regate di prima erano solamente con quelli più forti quindi sinceramente voglio riprovarci mi è arrivata veramente una bellissima mail da parte loro anzi vediamo se posso farvela vedere mentre aspettiamo aspetta che mettiamo questa qui prima allora mi è arrivata la loro mail giuro che l'ho vista eh non è steam non è questo non è quell'altro è virtual regatta sure eccola qua adesso ve la faccio subito vedere congratulazioni il bermuda non è mai stato così vicino adesso è parte degli sailor che possono andare alle playoff di settembre e lì si competirà per essere nei primi 8 andiamo subito a vedere se siamo già pronti a partire si manca un minuto alla partenza e iniziamo subito a vedere com'è il campo cavoli che campo che è allora intanto deve ancora allinearsi la aspetta controlliamo intanto che OBS stia registrando correttamente si affermativo andiamo subito a virare e andiamo a cercarci la boa il più velocemente possibile perché siamo abbastanza distanti a linea di partenza quindi adesso è il momento di assuggere il nacre e cercare di andare a partire dobbiamo partire a sinistra e sarà già difficile raggiungere la boa così però vediamo cosa andiamo a 12 nodi con già i 70 direi non male partiremo sicuramente qualche secondo tardi ma non sarà così grave ok andiamo giù di gennaker e su di bolina siamo partiti cosa? 6-7 secondi in ritardo quindi male ma non malissimo siamo gli ultimi della flotta ovviamente ma abbiamo già iniziato a avere le prime imbarcazioni a nostre spalle quindi insomma ci sono già imbarcazioni davanti che si prendono in pianeta stiamo recuperando posizioni lentamente siamo già in sesta e adesso vediamo se riusciamo a dare pianeta anche la francese si recuperiamo la quarta posizione ragazzi quarta posizione e il primo è quello là vi ricordate che ho detto partiamo a sinistra andiamo a sinistra e lui ha fatto quello che volevo fare io adesso vediamo quanto secondo me non conviene virare lui vedete lui ha virato subito ma in questo momento ce lo stiamo mangiando ragazzi che sembra quasi che abbiamo fatto mi sembra quasi di aver fatto la partenza giusta perché al momento ci dà in testa a tutti se arriva un leggero altro sinistro incrociamo le dita ci troviamo anche davanti come siamo con lui dovremmo incrociare bene avanti andiamo a vedere cosa succede lui tira tanto lungo non capisco il motivo ragazzi ci danno le posizioni di testa adesso bisogna vedere cosa fa il vento perché così guardate ci porta giusto giusto in boe non dobbiamo inventarci mica niente bisogna vedere cosa succede più avanti ma forse magari cominciare un pochettino all'orza adesso poi poggiare dopo perché insomma il mio allenatore diceva poggiare e morire ci fa sempre tempo infatti vedete adesso già sta ritornando un destro guardate che forte che è questo destro abbiamo guadagnato sì tanto durante la primo lato però ne stiamo per pagare le conseguenze secondo me ce la facciamo è molto dura molto stretta però dovremmo farcela voilà la magia la prestigibilizzazione come dicevano un po' di anni fa e adesso andiamo su gennaker e andiamo ad abbattere subito e a prenderci andiamo all'attacco cerchiamo di passarlo vediamo come risponde lui Diogo sembra un po' incancrenito lì nelle sue posizioni perché ovviamente si ha preso la penalità andiamo a cercare di andare all'attacco siamo lì che gli diamo fastidio ovviamente adesso siamo in una posizione in cui possiamo prenderci penalità siamo in boa ragazzi siamo qui che combattiamo per la seconda posizione siamo i più interni e andiamo su e vediamo come siamo siamo in terza posizione andiamo subito a virare ovviamente abbiamo scelto la boa giusta in quanto c'è un fortissimo destro però se arriva a sinistro-destro adesso mi sa che forse riusciamo a mettere anche la prova davanti vedete spinimana e non riesce a incrociare davanti anzi dovrà appoggiarci dietro se non vuole prendere penalità ma qua non ne frega un po' niente a nessuno e quindi vengono tutti infiancati ma siamo terzi eh cioè nonostante la bruttissima partenza che abbiamo fatto siamo terzi adesso andiamo a virare e speriamo che venga un sinistro perché sinceramente è sempre un punto destro un sinistro ogni tanto fare il mio male insomma e comunque col portoghese siamo lì eh eccolo qua è arrivato a sinistro siamo proprio attaccati al portoghese dobbiamo appoggiare per evitarlo siamo veloci siamo veloci anche in uscita dobbiamo stare un pochettino un po' più alti perché ci sta dando rifiuti e appena arriviamo e appena arriviamo alle tre lunghezze tac issate i gennaker e andiamo ad abbattere anche noi e cerchiamo di far subito velocità teniamoci un po' più alti teniamoci 140 vedete lui lui tiene 145 poggiamo subito tac poggiatina vento comunque in aumento a 18 nodi vedete stiamo dando quasi un nodo più forte di lui vuol dire che stiamo dando bei rifiuti ottimo che lui sale perché così noi riusciamo a prenderci l'interno in strambata è il momento giusto qua dove siamo stiamo andando veloci stiamo andando bene dobbiamo scendere un po' di più che così nel momento in cui abbatte noi andiamo in copertura e e ce lo mangiamo eccolo qua vedete siamo andati in copertura e ce lo siamo mangiati lui torna all'attacco però non può attaccarci più di tanto perché comunque abbiamo la possibilità di difenderci ancora speriamo solamente che non arrivino dall'altra parte a darci fastidio e adesso qua dovrebbe essere una fine abbastanza tranquilla per noi che finiamo in seconda posizione sì sì dai abbondante seconda posizione beh dai ragazzi prima regata subito bene dai siamo partiti due chilometri tardi vediamo partenza migliore di Diogo il portoghese noi siamo partiti sei secondi tardi mamma mia sei secondi tardi quell'altro è partito mezzo secondo tardi cioè dove è? ragazzi ero non ero concentratissimo non ero sul pezzo ah volevo dirvi che oggi faccio tre regate così e magari faccio tre regate in inglese così magari vediamo di riuscire a raggiungere una platea un po' più internazionale ad avere anche giocatori non solamente italiani che seguono questo bellissimo blog se vi interessa comunque userò termini nautici abbastanza corretti e quindi se volete anche parare i termini nautici in inglese se non proprio non masticate l'inglese potrebbe essere comunque d'aiuto la mia pronuncia non è british è un po' più americana quindi un po' una patata in bocca ma ma essenzialmente tendo a farmi capire un po' di più rispetto a un purista inglese ragazzi siamo già in dieci guardate la linea è tutta favorita la boa e anche il salto di vento è a sinistra prima è stato un po' più semplice perché avevano tutte le informazioni no? e quindi prima regata siamo comunque riusciti a passarne tanti solamente perché siamo stati un po' più bravi insomma un po' più fortunati però la partenza è stata terribile quindi adesso andiamo a migliorare quella cosa dite? scusate che bevo allora anche nell'ultima regata mi sembra parlassi della mia China Cup quando non sono riuscito a a registrarmi no la China Cup scusatemi la Round Hainan regata la Round Hainan regata è la regata che ho appena finito in Cina attorno all'isola dell'Ainan che ha come capitale Haikou ed è dove la regata è partita e invece ha come una delle città principali è Sanya che è una città esclusivamente turistica in quanto è proprio sul sul mar sud della Cina affacciato verso le Filippine il Vietnam quindi un mare simile a quello lì molto bello abbastanza incontaminato e adesso iniziamo manca un minuto alla partenza ma guardate che mi dà già tutti i nomi questa è una novità vi ricordate che prima non sapevamo mai con chi ci trovavamo a regattare no? adesso sappiamo che c'è della società che lo sia della società nautica Spietas Iulia è una società nautica di Trieste Luca direi Unita 46 anche e direi anche Desmo Giovanni ma lo credo un po' più sui motori più che altro Sottietà Pieta Iulia qui ho regattato ho fatto molte regate create da loro e quindi fatte da loro cioè gestite da loro e quindi insomma abbastanza bene sono sempre trovato molto bene a Trieste a regattare lì in Baia campo di regata eccezionale per difficoltà e diversificazione del campo siamo partiti abbastanza bene ci danno il gruppo di test forse dovevamo stare un po' più a destra però tutto il vantaggio che c'è sulla linea sinistra secondo me quello potrebbe essere un po' di vantaggio andiamo a vedere dall'altro come siamo siamo non riusciremo mai a incrociare di fronte al rugby in quanto c'è solamente un metro lui va però però c'è ancora al destro vedete lui si prende penalità è stata una mossa un po' folle sembra che stiamo staccando un po' no sempre lì ragazzi non mollano un metro e finché questi qui non vanno vedete se riuscite a vedere il corsore è Diogo il portoghese che è in controllo di tutta la flotta qua e noi dobbiamo solamente aspettare lui andiamo a vedere se virando riusciamo a mettere mezza prura davanti andiamo a appoggiare dietro perché siamo già in line tac ovviamente il portoghese guardate ci metto la mano sul fuoco che viene a virarmi sulle vere no strano cioè vedete noi ragazzi siamo abbastanza in ley line e non so se conviene tanto rimanere qua ma io noi andiamo a virare perché c'è un po' di scarso qui andiamo a prenderselo tutto cioè meglio prenderselo scarso adesso guardate che pelo che andiamo a tirare al portoghese e andiamo a virare adesso si che siamo in ley line e adesso vediamo cosa succede wow che passaggi ragazzi siamo un attimino nelle retrovie in questo momento in quanto il vento è girato veramente tanto a destra e noi ci siamo trovati tutta a sinistra nel momento in cui questo salto di vento è successo e adesso ci sarà una bella confusione nella prima bodybolina ci saranno vi assicuro un sacco di penalità e adesso vediamo come tutti gestiscono la situazione che sarà per dire poco complicata pensavo che si prendesse la penalità quello Luca evidentemente no e vediamo se ci è convenuto fare questa tattica qua il portoghese qua viene sicuramente a romperci le scatole perché saranno un po' forse rancorosi vediamo se quello che ha fatto lui è stata la scelta giusta vento in aumento di qua e vediamo che 12.2 una velocità che va sempre in aumento non conviene mai abbattere troppo con queste barche e vediamo se riusciamo a abbattendo sulle vele sue a dargli fastidio a prenderci un po' di spazio ok siamo riusciti a prenderci un paio di posizioni non so come sia successo ragazzi non ho capito assolutamente niente però sembra che stia arrivando un fortissimo destro quindi andiamo a prendercelo tutto e poi entriamo in ley line quindi 1 2 3 e via vedete siamo giusti sulla ley con la possibilità di un destro che arrivi anche e ci troviamo solamente alle spalle del di Luca quindi bella coppia di testa direi ci troviamo con un po' di vento di scarso in questo momento perché riceviamo i rifiuti da parte sua però senza soffrire tantissimo ci troviamo a poter fare la boa ovviamente piccolo rebecchino e il tedesco arriva sicuramente di gran carriera ma riusciamo a mettergli la prova davanti e siamo gennaker ciò che è munissata abbastanza prematura e andiamo subito ad abbattere per noi seguire Luca facciamo subito i nostri più vivi congratulazioni visto che sta viaggiando come un caccia e se mi segui veramente mi piacerebbe magari fare qualche regata magari match race ho visto che adesso c'è la possibilità di fare match race vedi che il tedesco viene all'attacco e noi andiamo ad abbattere come siamo qua col vento comunque in aumento no in calo in calo in calo in calo andiamo subito ad abbattere adesso abbiamo la possibilità comunque un attimino di controllare il nostro avversario se andiamo ad abbattere non ci può passare dal sottovento è bravo si ma se ci passa dal sottovento cambiamo sport ci sta ci viene l'attacco ci difendiamo magistralmente e adesso è il momento di scappare via vediamo se riusciamo a far accelerare la barca siamo ancora fuori dalla planata guardate come sta arrivando il portoghese a dieci nodi sta arrivando ragazzi noi ci siamo difesi con i denti per tenereci a seconda posizione vediamo se riusciamo a concludere anche questa regata in seconda posizione dovrebbe essere abbastanza margine per finire in seconda posizione quasi un secondo no quasi un secondo di vantaggio sul tedesco comunque due italiani sul podio andiamo con l'ultima regata e invece sono molto interessato nel sapere voi fate regate voi che mi seguite veramente assiduamente fate regate anche nella vita vera se si dove siete basati avete una barca o comunque un club con cui regattate spesso la mia esperienza è stata multipla soprattutto nel nord est non ho mai avuto la tessera in uno dei centri più importanti e blasonati anzi mi è sempre piaciuto correre per gli underdog quindi mi è capitato di correre per la compagnia del vento di pordenone che una delle regate più famose sono a mangia bevi vino e sardine credo si chiamasse la bluefish regata ma non so sicuro se mi confondo con con quelli lignano poi ho regattato con lignano ho regattato con chioggia un paio con un circolo di roma e quindi anche la mia tessera FIV la mia tessera federale che determina con quale club ho regattato per cui ho regattato non è mai stata una cosa molto importante per me non ho mai capito molto l'esigenza di ciò e quindi mi sono trovato a regattare in giro per l'Italia e in giro per il mondo con le tessere più più strane che abbia mai visto ragazzi mancano 20 secondi c'è un fortissimo destro a sinistra e la linea dà tanto vantaggio a sinistra quindi io tenderei il centro sinistra del campo di regata cazziamo tutto che mancano solamente 10 secondi e questa qui ci mette una vita a accelerare 5 4 3 2 1 via tac e siamo partiti direi non malissimo neanche benissimo siamo sempre lì con Luca che sti cazzi complimenti per la partenza mi è proprio piaciuta però finché non arriva il sinistro qua lui soffre perché nel momento in cui lui andrà a virare sicuramente mi passerà dietro però lo vedete il sinistro che sta arrivando lo vedete tutto l'orizzonte lì dietro che gira che gira che gira noi che continuiamo a poggiare e qua la stiamo soffrendo tutta perché questo qui è tutto vantaggio suo questo qui è tutto vantaggio suo in questo momento ci sta mangiando metri anche se questo qui dice il contrario ci stia mangiando metri perché nel momento in cui lui andrà a virare noi non avremo proprio tutto questo di stacco andiamo subito con una bella libao quindi ci mettiamo sotto vento a lui per dargli rifiuti e vediamo di riuscire a incrociare davanti a tutto il resto della flotta mi spiace tantissimo per la penalità che si è preso rough 1 perché comunque tra italiani non bisogna mai abbandonarsi l'uno all'altro sta ritornando al destro quindi vedete questa zona di flotta qua sta iniziando a guadagnare veramente tanto secondo me abbiamo imbroccato il momento giusto per virare siamo stati fortunati a virare esattamente sulle vele di Luca per dargli fastidio e adesso ci troveremo a virare fra poco per entrare in ley line e a dare fastidio sia al portoghese di prima sia al tedesco il tedesco fa una mossa abbastanza saggia che è virare un attimino in anticipo mentre noi andiamo proprio a virare sulle vele del portoghese per dare il più fastidio possibile e noi facciamo appena a pelo la boa il portoghese invece andrà a dare fastidio al tedesco che passa dietro e si prende la penalità il portoghese si impianta un attimino in boa noi siamo il gennaker un attimino un po' troppo prematuro però sembra già iniziare a tirare e via andiamo ad abbattere e scappiamo via e adesso è avuto il momento di scappare via ragazzi abbiamo la flotta che ci sta inseguendo ma noi siamo più veloci abbiamo scelto la parte giusta del campo di regata e adesso è andato il momento di andare ad abbattere arrivare a fare un bellissimo giro di boa con l'amainata adesso e andiamo ad abbattere a tornare su di bolina e via con il lato muore a sinistra andiamo a cercare di prenderci quella quella zona lì del campo di regata vediamo cosa fanno i nostri versai indietro indietro ci seguono quindi se non proprio non sbagliamo la ley line è difficile che guadagnino vedete 15-16 metri abbastanza stabili siamo molto vicini alla ley line se loro non splittano se loro vengono solamente a inseguirci qua fanno il nostro gioco perché inseguendoci loro non guadagnano se viene un salto di vento loro guadagnano sulla distanza laterale che c'è fra le due imbarcazioni tipo se adesso viene un sinistro e io non faccio più la boa loro guadagnano per questo esattamente come si voleva dimostrare no però sembra che il sinistro che è arrivato che ci sta dando fastidio non è sufficiente a non permetterci di fare la boa e quindi noi tiriamo una piccola orzatina poi iniziamo a appoggiare e andiamo a scappare via anche qui andiamo a hissare il gennaker abbastanza prestino abbiamo visto che comunque pagava un pochettino e poi subito ad abbattere e via di poppa cerchiamo sempre la destra del campo di regata che comunque è sempre stata abbastanza la nostra favorita sembra sia un po' più ventosa vediamo cosa sceglie con i nostri avversari diogo ci segue quindi fa il nostro gioco ottimo per noi noi stiamo entrando in questa bella zona di vento con questo vento che adesso viene esattamente da nord dovrebbe girare verso nord est 50 metri di vantaggio 50 metri di vantaggio e ragazzi cioè non potevo immaginarmi inizio migliore con queste imbarcazioni sapete che non c'è un gran feeling con con i j70 ma una vittoria due secondi posti ragazzi perfezione sono veramente molto molto contento abbiamo fatto 240 punti una media 80 punti per per gara se continuiamo così siamo lì nell'olimpo siamo lì nei primi 10 sono molto contento della regata che abbiamo fatto e finiamo così in prima posizione andiamo a vedere quanti punti abbiamo fatto in tutto perché adesso si ricomincia da zero adesso la classifica si rifà da zero e allora andiamo a vedere siamo centotrentesimi con 17 punti virgola 5 su tre regate cioè ragazzi tre regate hanno già partecipato 1119 skipper siamo già centotrentesimi quindi vedete che già con la media che abbiamo fatto abbiamo fatto 80 punti noi saremo primi primi con 7 punti di vantaggio quindi se riusciamo a mantenere una media così abbastanza impossibile ma se riusciamo a mantenere una media del genere possiamo essere in testa a questo campionato Alberto ha finito io ho finito con questo le regate di oggi si concludono qua adesso inizio a fare delle regate in inglese ecco qua mettiamo un mio bel faccione adesso faccio altre tre regate in inglese se vi piace se vi è piaciuto questo video lasciate un mi piace così iscrivetevi e se vi interessano in inglese seguite il prossimo video che probabilmente sarà pubblicato uno o due ore di differenza rispetto a quello in italiano dalberto iscrivetevi per oggi è tutto e ci vediamo domani per un altro video sempre con virtual regate in shore e probabilmente sempre con ij70 ciao 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 ciao